Gli effetti delle ultime piogge si fanno sentire a scoppio ritardato sui palazzi abbandonati di Pesaro. Dopo i cedimenti registrati domenica nell'ex manicomio San Benedetto, oggi i vigili del fuoco e polizia locale sono intervenuti in via delle vetrerie per la situazione precaria di un ponteggio di cornicione dell'ex chiesa delle Zoccolette, area che è stata transennata. Purtroppo queste piogge così violente stanno creando dei problemi anche a quegli edifici che ovviamente sono edifici in gran parte che sono chiusi da anni, in via delle Zoccolette è un altro di questi casi. È un edificio che l'amministrazione comunale ha ceduto qualche anno fa all'Erap sul quale c'è un finanziamento, che però voglio ricordarlo, di Erap per riqualificarlo e per realizzare anche in questo caso alloggi di edilizia residenziale pubblica. E quindi si tratta, adesso ci contatteremo subito tra Comune e Erap, cercheremo di far subito un intervento di messa in sicurezza, cioè far sì che quelli che sono i coppi che cadono non ci sia più il pericolo per le persone che passano sotto. Dall'altra parte, proprio in questi giorni, proprio domenica, è stata chiusa via Mammolabella perché anche l'edificio, l'ex manicomio e in particolare la parte di proprietà di AST, quindi della regione, anche lì si sono stati costretti ad intervenire perché stavano cadendo dei coppi. Ho parlato questa mattina direttamente col direttore generale, con il dottor Carelli che sta già intervenendo questa mattina, quindi voglio ringraziare l'AST per l'intervento immediato e mi ha detto che sono previsti anche gli interventi per la prossima settimana per fare ulteriori interventi di messa in sicurezza. Sicuramente si crea del disagio per i cittadini che abitano in via Mammolabella perché per fare l'intervento è necessario mettere sull'impalcatura, però devo dire che sono intervenuti veramente in tempi rapidi.